Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano c'è la seduta odierna del Consiglio regionale all'Aquila. Una seduta molto animata, soprattutto all'esterno di Palazzo dell'emiciclo, dove hanno manifestato i lavoratori di diversi istituti di ricerca in agricoltura, ovvero il Cotir, il Crivea e il Crab, che sono, molti di loro, anche da oltre un anno senza stipendio. L'assessore regionale Dino Pepe ha promesso una variazione di bilancio da un milione di euro entro l'estate. Dentro il Palazzo del Consiglio regionale è all'ordine del giorno una variazione di bilancio a favore della Saga, società regionale che gestisce l'aeroporto, e del Ciappi, l'ente regionale della formazione. Fuori i cancelli, la rabbia dei lavoratori degli istituti di ricerca regionali in agricoltura, Cotir, Crivea e Crab, che ancora una volta si sentono esclusi e pesi in giro da una regione, urlano, che ha figli e figli astri. Al Crab, entro in liquidazione, sono 24 i lavoratori che non percepiscono stipendio da 8 mensilità e il debito della società aumenta di mese in mese, sforando i 700 mila euro. In un'agonia senza fine, i lavori già svolti non possono essere incassati perché il DURC non è regolare. Stessa drammatica situazione al Crivea e al Cotir di Vasto, dove i 26 lavoratori hanno accumulato stipendi arretrati per 21 mensilità. Aspettavamo questa variazione, come ci era stato promesso dall'assessore, ma pare che ci abbiano dimenticato. Siamo 8 mesi di stipendi arretrati, i debiti continuano ad accumularsi, purtroppo siamo un end in liquidazione, quindi non possiamo partecipare a nessun bando, a nessun lavoro pubblico. Noi siamo ad oggi 21esima mensilità, abbiamo sempre lavorato, abbiamo concluso, stiamo concludendo, abbiamo concluso tutti i PSR che ci sono stati assegnati e ora in questi giorni stiamo proprio chiudendo anche gli ultimi. Il Consiglio è stato dunque interrotto subito dopo l'inno di Mameli per un incontro con la delegazione degli istituti di ricerca. L'assessore Dino Pepe assicura che sarà data loro una risposta. Entro luglio noi siamo in grado di pagare altri stipendi sia al Cotir che al Crab con la copertura dei progetti in corso e poi stiamo verificando con l'assessorata al bilancio l'opportunità di intervenire attraverso una variazione. Con il collega Paolucci stiamo lavorando per portare entro l'estate una variazione di un milione di euro che ci possa consentire di sanare parte del debito arretrato. Il Tribunale collegiale di Pescara presieduto dal giudice Rossana Villani ha assolto perché il fatto non sussiste l'ex assessore regionale Italo Mileti, l'ex amministratore della Fira Claudio D'Alessio e l'ex funzionario regionale Enzo Mancinelli nell'ambito del processo sull'operazione di brocheraggio delle ASL abruzzesi e sulle presunte interferenze esercitate in merito alla compraventina di un terreno sul quale la ASL avrebbe dovuto trasferire i nuovi uffici amministrativi. I fatti risalgono al 2009. Il PM Gennaro Varone aveva chiesto condanne a 4 anni di reclusione per Mileti e D'Alessio accusati di millantato credito e a 3 anni di reclusione per Mancinelli accusato di corruzione. Ho vissuto un periodo davvero difficile, ha dichiarato l'ex assessore regionale Mileti. È stato mortificante farsi tre giorni in carcere, essere sottoposto a 4 mesi con obbligo di firma, trattato come un delinquente comune e a 3 mesi di arresti domiciliari con 4 controlli nel cuore della notte che hanno coinvolto una famiglia intera. E andiamo avanti, ci spostiamo a Chieti. Il Consiglio Comunale ieri ha votato il rendiconto di bilancio del 2015, un'inversione di tendenza secondo l'assessore Luise, ma sui conti pesano il debito e i vincoli del patto di stabilità. Le criticità e i problemi finanziari al Comune di Chieti sono tutt'altro che risolti a causa della scarsa capacità di riscossione dell'ente e dei mancati trasferimenti statali. Ma nonostante tutto ci sono segnali di inversione di tendenza e commenti positivi da parte del primo cittadino in merito all'approvazione del rendiconto 2015. Abbiamo sentito in questi giorni le solite cassandre della sinistra che preannunciavano dissesti, sfaceli, anche non sapendo leggere evidentemente le carte, perché se c'è un dato nuovo è la discontinuità rispetto a un trend negativo che vedeva i rendiconti del Comune approvati sì, ma sempre con un parere non favorevole da parte del Revisione dei Conti. Per la prima volta dopo quattro anni il rendiconto del Comune arriva in Consiglio Comunale con un parere favorevole per quanto condizionato, ma ad una condizione che è stata peraltro risolta dall'amministrazione attraverso una revisione del credito vantato da Acca nei confronti del Comune. Non parlerò dei debiti che ho ereditato e ne sono per davvero tanti. Non voglio parlare neppure del riaccertamento dei residui fatti lo scorso anno che ci hanno portato ad avere circa 30 milioni di euro di disavanzo, ma parlo dei 5 milioni e 3 di avanzo che si registrano sul rendiconto per competenza del 2015, che vuol dire che in un anno adottando politiche che sono state mirate al risparmio, al taglio della spesa e ad una oculata gestione delle poche risorse a disposizione, siamo stati in grado di mettere in sicurezza i conti del Comune. Adesso si apre una fase nuova, che è quella della predisposizione del bilancio di previsione, un bilancio di previsione che non può non tener conto di quello che stiamo ancora vivendo, perché se è vero che abbiamo approvato il bilancio in condizioni di parere favorevole da parte del Collegio di Revisione dei Conti, rendi conto, è altrettanto vero che abbiamo la necessità di continuare ad avere una politica molto, ma molto ristretta sotto il profilo della spesa e soprattutto ad azionare nuove politiche delle entrate. Tutto pronto a Lanciano per il varo della nuova giunta del Pupillo Bis, confermate le anticipazioni della vigilia. Giovedì ci sarà la presentazione ufficiale della nuova squadra di governo. L'annuncio è arrivato ieri sera nel corso della festa per la riconferma sindaco di Lanciano. Mario Pupillo ha pronta la sua nuova squadra di governo. Nella nuova giunta saranno tre le donne, Dora Benedotti, Assessor Uscente e i volti nuovi Francesca Caporale e Marusca Miscia, riconfermati fra gli uomini Pino Valente, Davide Caporale, Pasquale Sasso, l'unica new entry e Giacinto Verna. Per le deleghe però bisognerà attendere fino a giovedì, quando Pupillo ufficializzerà nomi e compiti del suo secondo mandato. Stiamo definendo adesso le deleghe, entro domani sapremo ancora con più precisione, ma fondamentalmente sono quegli spazi che sono stati lasciati vuoti da i quattro già assessori confermati e quindi c'è l'istruzione, c'è la mobilità, c'è il turismo, c'è la cultura, c'è la digitalizzazione, cioè ci sono tanti argomenti e capitoli che noi vogliamo riunire o spacchettare disegnandole sulle capacità, sulle esperienze, sulle vocazioni che le new entry hanno già esternato e che noi andremo ad assecondare. La Procura della Repubblica dell'Aquila dopo mesi di lavoro ha chiuso le indagini su una inchiesta che vede coinvolto, tra gli altri, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. In particolare si tratta di due costole di uno stesso procedimento. In una il primo cittadino insieme ad un funzionario rischia il processo, nell'altra è stata chiesta l'archiviazione per lui e per gli imprenditori Eliseo Iannini e per Giorgio Ruggeri. Nella prima l'ipotesi di reato contestata al sindaco e a un funzionario comunale è di tentata induzione in debita. Secondo l'accusa Cialente avrebbe sollecitato lo sblocco di pagamenti di lavori della ditta Palomar allo scopo di evitarne il fallimento poi effettivamente avvenuto. E' fatto pressioni per agevolare la demolizione di alcune strutture nell'ambito del consorzio di 17 cooperative e 201 appartamenti nella zona periferica ovest di Pettino. Restiamo all'Aquila e parliamo della riorganizzazione del partito dell'Udc in vista delle prossime amministrative di maggio 2017. Il segretario comunale Bontempo dice non siamo morti. L'Udc Aquilano si riorganizza in vista delle prossime amministrative del maggio 2017. Il partito del segretario nazionale Lorenzo Cesa che in consiglio comunale ha come rappresentanza il consigliere Raffaele Daniele ha l'obiettivo di creare un gruppo forte e coeso fatto da professionisti aquilani. Il segretario comunale è l'avvocato Luciano Bontempo. Per quanto concerne la riorganizzazione del nostro partito diciamo che la mia espressione è stata una volontà di Lorenzo Cesa con il quale ho avuto un colloquio e ho accettato perché ritengo che ormai non si debba più stare a guardare. Ognuno di noi deve contribuire seriamente allo sviluppo di questa città e abbiamo riorganizzato, stiamo riorganizzando un Udc nuovo. Non è vero dunque, non corrisponde quanto qualcuno sostiene che l'Udc sta scomparendo e che assolutamente non è vero. Noi ci siamo riorganizzati, abbiamo costruito una squadra nuova fatta di soli professionisti e di persone che intendono portare avanti determinati progetti ben più importanti e quindi andiamo a recidere il rapporto con la vecchia politica. Questo è il senso. Probabilmente l'Udc non esprimerà un candidato sindaco per le prossime amministrative ma creerà una lista di appoggio a uno dei candidati. Resta da vedere a quale e a quale schieramento, centro-destra o centro-sinistra. Ispezione dei carabinieri del NAS di Pescara e della ASLE in uno dei grandi alberghi di Montesimano dopo che alcuni clienti, ospiti in occasione di un convegno hanno avvertito problemi gastrointestinali tanto da dover richiedere l'intervento di personale sanitario sul posto. Immediato è scattato il controllo con accertamenti nelle cucine e nei luoghi di preparazione di alimenti e bevande. Sono state riscontrate carenze igieniche che saranno oggetto di sanzione amministrativa. La scorsa estate in un altro hotel della zona dopo che una trentina di persone non si erano sentite bene NAS e ASLE di Pescara avevano disposto in seguito ad una ispezione la sospensione della cucina della struttura ricettiva. E restiamo a Montesilvano. Pessima la qualità dell'aria in via Vestina. Il neocomitato Vestina Pulita assieme all'Egambiente WF ha lanciato un appello agli organismi competenti affinché vengano attuate tutte le azioni necessarie al ripristino dei valori entro i limiti di legge. Montesilvano Regina dell'inquinamento acustico e atmosferico. A dirlo i dati presentati da Lega Ambiente WF e il comitato costituitosi per l'occasione. Si tratta di un'aurea fortemente popolata di mezzi pesanti e l'allarme è concentrato sui danni verso i residenti. Se i dati dell'arta dicono che si superano i limiti i limiti sono i limiti massimi tollerabili vuol dire che al di là di questi limiti sia per l'inquinamento acustico sia per l'inquinamento atmosferico ci possono essere danni per i cittadini. Ma a Montesilvano si è stuperato veramente ogni limite ed è necessario, fondamentale, che Montesilvano non diventi la pattumiera dell'area metropolitana ma diventi un'area perfettamente integrata nell'area metropolitana nella quale i cittadini possono vivere bene in salute. Un appello all'amministrazione comunale per ottenere un intervento immediato sia breve che a lungo termine che comprenda anche una riduzione dei flussi di veicoli che potrebbero compiere lo stesso tragitto utilizzando l'autostrada. Si sono certi dati veramente allarmanti in alcune situazioni è andato addirittura a fondo scala il macchinario ma noi chiediamo il ripristino di questi dati alla normalità tramite, lo chiediamo alle istituzioni che possono fare qualcosa quindi al comune, alla provincia, all'ANAS o alla regione noi questo non interessa abbiamo creato una raccolta firme, l'abbiamo creata da poco ma andremo avanti anche con degli esposti che faremo nelle sedi competenti per cercare di far tornare la qualità dell'aria insomma del traffico e della vivibilità della zona a una situazione umana. Domenica prossima 3 luglio e per la quarta stagione consecutiva saranno garantiti i collegamenti diretti giornalieri dal porto di Punta Penna di Vasto verso le isole Tremiti senza scalo intermedio a Termoli il servizio sarà gestito anche questa volta dalla compagnia navigazione libera del Golfo di Gaeta con la motonave Picasso la partenza da Punta Penna alle ore 8.45 del mattino con arrivo previsto alle 10.30 e ritorno con partenza alle 17.40 e rientro nel porto alle ore 19.30 e ora torniamo a Pescara è stata definita una scoperta epocale l'Icranet di Pescara annuncia l'esistenza di 300 sorgenti di nuclei galattici attivi l'Icranet di Pescara compie un'importante scoperta si tratta dell'organizzazione internazionale che nel corso dell'Adriatic Workshop vede in questi giorni ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo riuniti ad analizzare, confrontare e discutere studi e osservazioni su raggi gamma processo teorico in astrofisica relativistica di stelle e neutroni buchi neri supernove e ipernove annunciando con grande soddisfazione i risultati di un giovane ricercatore brasiliano la grande scoperta è che un giovane ricercatore di origine brasiliana che dirigerà il nostro centro dati che abbiamo qua a Pescara ma che in fibra ottica si dirama dall'Armenia al Brasile dirigerà questo centro ha scoperto 300 nuove sorgenti di nuclei galattici attivi cosa sono? i nuclei galattici attivi sono degli enormi buchi neri di 100 milioni di masse solari che sono attivi ricercatori provenienti da Argentina, Cina, Spagna, Brasile, Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Colombia, Armenia e Italia arrivano a Pescara dopo la tappa di Nizza altra sede Icranet nel mondo in un'iniziativa che ha interessato numerose università come Brema, Ferrara, Oldenburg solo per citarne alcune è una scoperta importante nel senso che spiega parte di quello diciamo una parte della radiazione che era vista come diffusa ma che adesso riusciamo a a spiegare come sorgenti puntiformi quindi in resumo abbiamo trovato un modo di arricchire spiegare meglio quello che osserviamo nel cielo nella banda di radiazione gamma si svolgerà il 3 luglio al Teatro d'Annunzio di Pescara la serata finale della 43esima edizione del premio Flaiano tra i premiati Gabriele Garco Alessio Boni Alicia Miglietta Jonathan Co Pino Insegno e Marco D'Amore Presidente Tiboni 43esima edizione dei premi Flaiano ancora un premio un'edizione con grandi nomi grandi nomi che saranno a Pescara il 3 luglio e che contribuiscono ancora di più a rendere importante questo premio che già lo è e lo ha dimostrato in questi 43 anni tra i nomi internazionali di grande ridievo cioè lo scrittore Jonathan Co premio internazionale per la letteratura poi per quanto riguarda la televisione ci sarà Gabriel Garco che hanno appreso con soddisfazione ma anche con felicità di essere premiati perché il premio ormai si è inserito nel circuito della cinematografia per la sua importanza per il suo rilievo la cultura ha bisogno dei contributi anche che provengano dai privati e il pubblico e il privato devono convivere la cultura è un elemento fondamentale nella vita di una società e diciamo che c'è bisogno di un nuovo mecenatismo questo mecenatismo che dia respiro alle richieste di cultura che ci sono che come ha anche sottolineato l'Unione Europea in quel nuovo progetto che si sta varando per la cultura debba contraddistinguere l'accesso alla cultura da parte di tutte le categorie anche quelle più svantaggiate ed è stato inaugurato ieri sera a Fregene presso lo storico villaggio dei pescatori Largo Egno Flaiano a Fregene il grande scrittore sceneggiatore pescaresi ha vissuto e lavorato ad alcuni dei suoi capolavori il ricordo di Egno Flaiano ha commentato l'assessore alla cultura Arcangelo Galluzzo scomparso oltre 40 anni fa ancora è vivo si alimenta attraverso le sue preziose opere fu un grande intellettuale che si occupò di cinema teatro prosa e giornalismo una figura versatile e inconfondibile unica nel panorama italiano del dopoguerra e ora parliamo di perdonanza 2016 con l'artista napoletano Massimo Ranieri che chiuderà appunto la perdonanza celestiniana il 29 agosto ma sarà anche testimonial dell'intero evento eventi per tutta l'estate a settembre la seconda edizione della rassegna Jets ad agosto allo Stadio Fattori in scena anche il calcio con la Coppa della Pace Massimo Ranieri artista poliedrico napoletano sarà l'ospite d'onore della perdonanza celestiniana edizione numero 722 Massimo Ranieri terrà il concerto di chiusura il 29 agosto ma sarà anche il testimonial di tutta la perdonanza celestiniana come annunciato da Alfredo Moroni vicepresidente del comitato organizzatore ricco il calendario di eventi che partiranno il 17 agosto per concludersi il 4 settembre con la seconda edizione della rassegna Jets che l'anno scorso portò all'Aquila oltre 600 artisti e 60.000 persone quest'anno il tema scelto sarà quello dell'amore per la natura e per l'ambiente con un collegamento forte tra San Pietro Celestino il Papa del Rifiuto e San Francesco il poverello d'Assisi Assisi appunto ospiterà la bolla del perdono in una mostra documentaria aperta da luglio sino ad ottobre la bolla tornerà ad ottobre all'Aquila e sarà restaurata il 4 ottobre ci sarà anche un convegno per parlare di Celestino Quinto e San Francesco il Comune ha messo in piedi anche diverse iniziative con il FAI come la Marcia del Creato che ci sarà il 20 agosto esistono poi alcuni altri elementi che riteniamo fondamentali per la costruzione di tutto il cartellone uno è il torneo della pace che dal 27 al 29 di agosto interesserà le squadre primavera di Juventus Torino Roma e Pescara e l'altro è un argomento di fondamentale importanza in questo momento e riteniamo di toccare che viene realizzato attraverso un monologo dello scrittore Antonio su un'opera di Antonio del Giudice che è quella relativa al dottor Nisticò che in questi giorni è stato presentato in anteprima credo a Pescara la Porta Santa di Colle Maggio anche se in fase di ristrutturazione sarà aperta e messa in sicurezza per consentire il passaggio dei pellegrini attraverso la porta ad aprire la Porta Santa il cardinale Edoardo Menichelli Giorci Vescovo di Chieti e segretario della Commissione Episcopale per la Famiglia dal 27 al 29 agosto inoltre prenderà il via la seconda edizione della Coppa della Pace che quest'anno vedrà sfidarsi le primavere di squadre come Juventus Torino Roma Pescara e l'Aquila alla conferenza stampa erano presenti anche i componenti del comitato Don Carmelo Pagano Le Rose Don Vito Sacchi e la storica dell'arte Giovanna Di Matteo oltre al responsabile della scuola calcio dell'Aquila Calcio Maurizio Ianni che ha illustrato appunto il programma della Coppa della Pace torneo giovanile che si terrà ad agosto allo stadio Fattori Il 2 e 3 luglio a Montesilvano primo raduno del mare un appuntamento imperdibile per gli amanti dei camion Il prossimo 2 e 3 luglio a Montesilvano ci sarà il primo raduno del mare un raduno di camion nuovi e di uso comune che è organizzato da un grande team Durante l'evento saranno presenti punti ristoro e manifestazioni in cui verranno presentati i nuovi camion del grande sponsor Duraccio uno stand di modellini dove si potranno comprare questi modellini parti di camion parti in acciaio inox e avremo show di ragazze le nostre ragazze immagini grandi sponsor a livello italiano e non solo Vi aspettiamo tutti al primo raduno del mare dove troverete questi camion e camion di nuova costruzione Andiamo ora ad incontrare la star dei produttori Mario Duraccio con la sua ultima creazione Vi aspettiamo con l'ultima mia creazione al raduno del mare una settimana per farlo in collaborazione con Mauro che mi ha dato lo spunto per fare questa nuova bellezza e con tante altre macchine che vi stupiremo Apriamo ora la pagina dello sport e lo facciamo con questo servizio di calcio mercato le ultime sul fronte Pescara Si scada nelle ultime ore l'asse tra Pescara e Inter la società nerazzurra proprio nelle ore che hanno seguito la rimodulazione della proprietà si è fatta avanti per Gianluca Caprari cui è fortemente interessata resta fermo che l'attaccante anche con queste ipotesi giocherà in riva l'adriatico e potrà proseguire il suo percorso di crescita dopo la svolta del campionato appena chiuso la scintilla che ha aperto il fronte e il forte interesse del Delfino nei confronti del terzino sinistro Cristiano Biraghi specie dopo il mancato riscatto di Alessandro Crescenzi Biraghi sarebbe il giocatore ideale per il binario Mancino e nel caso Caprari l'adeguata contropartita per arrivarci per Caprari però resta sempre attuale l'ipotesi Napoli che dopo la beffa la padula potrebbe vedere sfumare un altro obiettivo tante le valutazioni dunque che il presidente Sebastiani dovrà fare per non guastare i rapporti con i parte europei sempre in tema di Inter il Pescara segue con interesse l'attaccante rumeno Gheorghe Puskas classe 1996 arrivato in Italia nel 2013 il possente centravanti è stato un punto fermo della primavera nell'Azzurra per un biegno la scorsa stagione in prestito a Bari si è fatto apprezzare nella gestione Camplone 5 gol in 17 presenze 9 da titolare restano un paio di suggestioni Alberto Girardino il cui ingaggio però supera il milione di euro impraticabile e lo svincolato Marco Boriello ma il presidente Sebastiani non ha confermato l'interesse per i due centravanti veterani intanto si lavora sul fronte Arlind Ageti il difensore della nazionale albanese fa gol al Delfino si lavora sull'accordo per l'ingaggio con il papà procuratore il Pescara fretta per evitare lo scatenarsi di un'asta visto che sul giocatore hanno messo gli occhi Atalanta, Lazio e Bologna se non altro Ageti ha trovato in Memuschiai uno sponsor ideale per guardare l'opzione Pescara con un occhio di riguardo sempre per la difesa non si spezza il filo con il terzino del Vicenza Delia e con il centrale di proprietà della Roma Gionber se non si dovesse arrivare all'accordo definitivo con gli obiettivi principali appunto Ageti e Biraghi E ora la Lega Pro sul fronte Teramo lo si era detto nei giorni scorsi ora è arrivata l'ufficialità il prolungamento del contratto con il difensore e capitano Ivan Speranza che ha firmato un contratto che lo lega al club di Via Oberdan fino al 30 giugno del 2020 dunque un contratto quadriennale ho parlato al termine del campionato con la società ha detto Speranza e cercato di trovare una soluzione per accordarci quando c'è la volontà di entrambi credo sia facile trovare un'intesa questa firma conclude Speranza dimostra indiscutibilmente la mia volontà di chiudere la carriera qui continuando a divertirmi e a garantire il massimo impegno per questi colori le ultime poi sul mercato di Lega Pro in questo servizio Dopo l'ufficialità di Mattia Altobelli in casa Teramo si attende l'arrivo di un altro prospetto di scuola pescara Francesco Carcalis il difensore ex L'Aquila e Maceratese dovrebbe prolungare il suo contratto col Delfino prima di dire sì al prestito con i Biancorossi raggiungendo così il suo compagno di squadra definito l'acquisto anche del centrocampista Davide Peterman anche lui l'hanno passato al Sant'Arcangelo e che per posizione dovrebbe prendere il posto in mezzo al terreno di gioco di Stefano Madio che è ancora sotto i riflettori della Latina ma con i razzurri di Vivarini che ancora non hanno formulato un'offerta ufficiale il sogno davanti è Marco Sansovini e il centravanti è davanti ad una scelta di vita o sceglie di rimanere al nord e accetta le lusinghe del Mantua oppure decide di rimanere a questo punto definitivamente in Abruzzo e a quel punto Teramo sarebbe una soluzione gradita al giocatore che a 36 anni potrebbe ancora dare molto al reparto avanzato dei Biancorossi in un campionato quello di Lega Pro nel quale ha dimostrato di essere ancora decisivo a Cremona in 14 presenze è andato a segno sei volte e sarebbe il partner ideale per Antonio Croce Sansovini non escluderebbe Marco Guidone anche se Lupo valuterà anche le possibili alternative e nel caso una delle due o tutte e due le piste non dovessero concretizzarsi questione portiere nelle prossime ore la società incontrerà Alessandro Tonti per verificare la sua disponibilità a rimanere e a quali condizioni intanto si lavora su altri profili uno è Riccardo Melgrati 22enne del Cesena in prestito alla Provercelli quest'anno in campo in quattro circostanze altro osservato speciale Matteo Brunelli in prestito dal Chievo al Pisa appena promosso in Serie B e assistito da Donato Di Campli in casa Lanciano invece ancora poche operazioni Rigione dovrebbe salutare i rossoneri ci sono Padova e Alessandria sul difensore centrale mentre il giovane Edoardo Tassi dopo l'esperienza al Torino dovrebbe rientrare alla casa madre Frentana in entrata piace come il bomber dell'Avezzano Lorenzo Di Curzio che si è messo in evidenza in questa stagione a suon di reti che gli sono valse anche la convocazione nella rappresentativa di Serie D al torneo di Viareggio Ed ora cambiamo sport con la vittoria sulla Florenzia la palanoto femminile Pescara raggiunge un traguardo storico la promozione in Serie 1 un risultato merito anche del lavoro del tecnico Tommaso Cianfrone con l'allenatore del Pescara Palla Nuoto Tommaso Cianfrone per festeggiare un momento storico dello sport pescarese abruzzese la promozione del Pescara in Serie 1 femminile di Palla Nuoto nella gara decisiva al Palla Palla Nuoto le pescaresi hanno battuto con il punteggio di 5 a 4 la quotata Florenzia con i seguenti parziali 1 a 1 1 a 0 1 a 2 2-1 una vittoria meritata per come le ragazze hanno saputo tenere la concentrazione fino alla fine in gol sono andate Apilongo Vidonis e Invernizi una volta e doppietta di Claudio allora Tommaso Cianfrone una gioia indescrivibile sì ma è veramente una gioia indescrivibile anche per come è arrivata soprattutto in questa gara a 2 dove abbiamo sofferto veramente quindi onore anche alla Florenzia che ci ha tenuto fino alla fine fino a un minuto alla fine in punteggio di parità i ragazzi sono stati bravissimi hanno interpretato al meglio la partita sono state lucide calme anche in situazioni un po' più difficili alla fine ce l'abbiamo fatta per te questa la prima vera panchina da prima squadra no? è una prima panchina promozione in a 1 non me l'aspettavo sinceramente la squadra era abbastanza forte già dall'inizio però dovevamo mantenere una lucida tale che ci permetteva poi di affrontare queste partite per me si è una grande gioia soprattutto per la società Pescara Pallannuoto che ha creduto in me e ce l'abbiamo fatta è tutto per questa terza edizione del TG6 che torna domani alle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte grazie a tutti Grazie a tutti.